Cosa rappresenta per gli agricoltori e i soci emiliani di Agrintesa questa giornata? Ma come ho detto prima, a chi partecipava alla riunione è un giorno di festa. Le due basi sociali si incontrano, c'era il desiderio da parte dei nostri produttori romagnoli di venire a conoscere la realtà della Calabria, una realtà molto bella. Sono contento che possano toccare con mano questa bellissima realtà. Andremo a fare un giro per i magazzini, ma anche nelle aziende. E credo che sia il modo migliore per fare integrazione vera tra due basi sociali di cooperativa vera. E cosa significa questa intesa e questa collaborazione? Che opportunità offre? Offre una grande opportunità tutte e due le basi sociali. Per noi di ampliare il nostro calendario produttivo, sia in termini di tempistica che di varietà e di specie. Vedi gli agrumi e da parte della base sociale Calabra, quella di affacciarsi a un mondo molto più grande, quello di Agrintesa, che è un mondo che parla con tutto l'universo, diciamo, dei consumatori globali di frutta e verdura. Qual è stato il percorso che vi ha portato qui oggi? Nasce da lontano, da una collaborazione prettamente commerciale. Ci si è conosciuti dal 2015 in maniera approfondita. Si è capito che si poteva fare qualcosa di più. Bisognava solo attendere che i tempi maturassero. Oggi siamo qui a, diciamo, a festeggiare questa integrazione vera. Grazie. Grazie. Grazie.